Ciao ragazzi, video molto corto, cercherò di farlo rimanere sotto il minuto. Allora, l'Under19 ha giocato contro la Sampdoria e hanno vinto 1-0, Senko ha parato un rigore e poi al novantesimo uno dei subentati ha segnato, non vi dirò chi perché è un nome veramente tanto difficile da pronunciare, non ho visto la partita, per questo vado veloce perché penso sia semplicemente inutile che vi parli della partita se non so neanche cosa sia successo, a parte queste due cose. E volevo dirvi che è uscita una chiacchierata sul canale di Domenico Bianconero, vi lascio il link in descrizione, e vi invito ad andarlo a vedere. Ciao ragazzi, sempre fino alla fine forza Juve, in questo caso Juve Primavera. Ciao ragazzi!